È arrivato a casa ubriaco e ha iniziato a picchiare la moglie di fronte ai due figli, i riempiendola di calci e pugni. L'ennesimo caso di ferocia sulle donne, l'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche. La vittima è una donna di 32 anni che dopo aver subito le percosse ha chiamato immediatamente i carabinieri. Una donna che è stata per qualche ora, oserei dire quasi un giorno, presso la locale caserma dei carabinieri e poi siamo riusciti a dargli ricovero in una di queste case che tutela le persone che subiscono violenza. Un episodio simile nella giornata di ieri è su Zegana. Un 44enne disoccupato ha prima picchiato la moglie e poi ha sferrato un calcio al passeggino del figlio di un anno, facendolo cadere a terra. Anche in questo caso a bloccare e arrestare l'uomo sono intervenuti i militari dell'arma che hanno portato la donna e i figli in una comunità alloggio della provincia. E proprio dopo questi casi il comune di Mogliano lancia un appello per una raccolta firme sul femminicidio e sulla violenza sulle donne. Il fenomeno del femminicidio non si risolve solo con il reato penale ma soprattutto con la prevenzione e con la tutela della vittima e quindi è necessario trovare delle risorse per poter tenere aperto le case comunità che è il primo strumento per la vittima di violenza. Da domani presso il punto comune ci sarà il modulo dove raccogliere le firme per avviare anche dei progetti educativi nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La necessità ora è di sensibilizzare sul tema i cittadini perché nella maggior parte dei casi le violenze non vengono denunciate. Sicuramente dai nostri dati le crisi coniugali aumentano proprio perché la crisi economica accentua queste tensioni però ci viene rilevato che diminuiscono le persone inserite nelle case comunità.